Oggi ripassiamo insieme il complemento di termine e partiamo come al solito dalle parole. Cosa significa, cosa indica il complemento di termine? Indica la persona o l'animale o la cosa a cui è rivolta l'azione, cioè dove termina, dove finisce l'azione espressa dal verbo. Facciamo un esempio. Ho telefonato a Pino. Come al solito individuiamo il predicato. Ho telefonato. Chi compie l'azione di telefonare? Io. Soggetto sottointeso. A chi ho telefonato? A Pino. L'azione espressa dal verbo, cioè l'azione di telefonare, termina su Pino. Quindi il complemento di termine risponde alla domanda a chi? A che cosa? A Pino è la risposta. Ed è il complemento di termine. Non è un complemento difficile. È abbastanza semplice e intuitivo. Però come al solito ci sono alcune cosette a cui bisogna prestare attenzione. Infatti se io scrivessi così. Ho telefonato a Pino per dirgli di restituirmi il libro. Allora, noi ormai sappiamo che per prima cosa dobbiamo concentrare la nostra attenzione sui predicati. Qui ne abbiamo ben tre. Quindi ripassiamo la regola d'oro. Sappiamo che se ci sono tre predicati, ci sono tre frasi e quindi ci saranno tre soggetti. Cominciamo a identificare queste frasi. Ho telefonato a Pino è la prima per dirgli è la seconda di restituirmi il libro è la terza. Adesso passiamo all'analisi. Passiamo alla seconda frase. Per dirgli, ecco, attenzione, perché il predicato è solo dire. Quindi dire è il predicato verbale. Dobbiamo staccare questo pronome, gli, e applicare la solita regola che abbiamo imparato. Cioè, se ho una particella pronominale, un pronome, io devo esplicitarla. Devo capire che cosa significa, che cosa indica. In questo caso significa a lui. Quindi è un altro complemento di termine. Allora, hai visto l'operazione dire è predicato verbale, gli va staccato perché è un complemento di termine. La stessa cosa succede con restituirmi. Allora, in realtà, il verbo è restituire, che è predicato verbale. Poi io però ho di nuovo questo, che è un pronome. Che cosa significa a mi? Significa a me. Restituire il libro a chi? A me. E quindi è un altro complemento di termine. Allora, non è difficile. Semplicemente, come al solito, bisogna prestare attenzione, individuare i pronomi e porsi le domande giuste. Perché dico le domande giuste? Lo capirai guardando questo altro esempio. Guardiamo questa frase. Pino mi ha ascoltato. Procediamo con l'analisi. Ha ascoltato. Predicato verbale. Chi compie l'azione di ascoltare? Pino. Attenzione. Ho un pronome. Quindi cosa devo fare? Devo esplicitarlo. Perché non è mica detto che tutte le volte che io trovo la parolina mi, questa significa a me. Attenzione bene. In questo caso, Pino ha ascoltato me. Vedi che è molto diverso? Tu non dici Pino ha ascoltato a me. Pino ha ascoltato me. Ma allora questo non è un complemento di termine. E' un complemento oggetto. Quindi, individuare i pronomi, esplicitarli e farsi le domande giuste. Ecco perché lo dicevo. Ultimo esempio. Perché queste paroline sono proprio antipatiche. A volte sono mescolate. Sono insieme. Leggiamo questa frase. Glielo dirò. Dirò. Predicato verbale. Io. Compio l'azione di dire. Quindi. Soggetto sottinteso. Adesso andiamo a capire quest'altra parola. Glielo. Glielo è formato da due parole. Gli più lo. Se io ho due particelle, devo analizzarle entrambe. Perché sono due cose diverse. Quindi. Gli significa a lui. Lo significa ciò. Dirò a lui questa cosa. Dirò a lui ciò. Ci siamo? Allora nella mia analisi io devo staccare queste due particelle. E scrivere gli complemento di termine. Lo complemento oggetto. Quindi, ricapitolando. Il complemento di termine indica dove finisce l'azione del verbo e risponde alla domanda a chi, a che cosa. Devo stare attento alle particelle pronominali perché ogni pronome ha un significato e quindi ogni pronome è un complemento diverso. Allora. 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 Grazie.